mi passi il procuratore, sono il ministro De Angelis procuratore, la disturbavo per una sciocchezza quella questione sulla scarcerazione del Torangeli abbiamo deciso di dare l'incarico al giudice istruttore, a dottoressa Fiacchi giudice Torangeli che mi state facendo uscire? niente ho chiesto e niente ho da darvi io non sono un pentito non ho cantato e non ho nessuna intenzione di cantare le vanno ammazzate tutte e due, le vanno fare un cappotto di legno e se adesso noi stiamo andando dove le hanno detto noi entro domani saremo soltanto un ricordo questa è una violazione del protocollo, non deve saperlo nessuno finché non decido io e mi dica qual è la località dove ha portato Torangeli quello se la canta e ci fotte e allora faremo a modo nostro sei impedito è il tuo padre che te lo dici sarà meglio per tutti se tu mi raggiungi io ci faccio il signor Torangeli è il tuo padre poi ti accetta e schietti che significa? che la figlia di Libeccio oggi nel pomeriggio l'ha incita alla necropoli la rapiremo odio le pistole fermo da un mazzo come un maiale sei un uomo morto sta fitta Mietro! Libeccio lì addosso Salvatore Mietro! fino a che punto ti puoi spingere con il tuo silenzio? e rovinare quel ragazzo? ma fio su se ma giura mai Mietro 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 Mietro